Giovanna Fassero, presidente dell'Uni3 Alto Canavesi, direi un vernisage con i fiocchi, tantissima gente. Sì, sono veramente contenta, non mi aspettavo tanta gente. Sono arrivate anche da altri paesi, tante amiche che non vedevo anche da parecchio tempo. Spero che continui la fluenza, che non si fermi questa giornata. E' un programma molto vasto, inizierà, anzi praticamente iniziato con questa prima azione e terminerà a maggio. Sì, terminerà a maggio, ci sarà un relatore, tutte le settimane, il martedì, saranno attivati i laboratori e speriamo che abbiano un seguito. Alberto Turidato, direttore dell'Uni3 Alto Canavesi, con un sacco di argomenti in questi sei mesi da dedicare a tutti gli iscritti che oggi, in questo vernisage, sono stati davvero numerosi. Sì, davvero numerosi e questo non può che renderci felici perché significa che si tratta di un'attività e di qualcosa che era sentito sul territorio. Corsi, sì, davvero, il denominatore comune dei corsi è la varietà. Credo che veramente ci siano corsi per tutti i palati, si vada a cose piuttosto impegnative che riguardano, argomenti impegnativi che riguardano letteratura, storia, a cose un po' più futili forse come la preparazione dell'addobbo dei regali di Natale o i gioielli, insomma. Quindi, ripeto, credo che tutti i partecipanti al corso, ai corsi dell'Uni3 di Rivara, avranno la possibilità di trovare la loro personale combinazione di corsi e di attività varie. Saranno corsi interni ma ci saranno anche delle uscite? Sì, molte gite, una per mese in buona sostanza, rivolte al territorio sempre, quindi si approfitta di manifestazioni o mostre di qualche genere per visitare luoghi della nostra provincia e, come sempre, l'attività didattica è corroborata, diciamo, dallo spirito di, insomma, il desiderio di passare un po' di tempo insieme e di divertirsi. Quindi, insomma, studiare sì, imparare qualcosa di nuovo sì, ma anche divertirsi e passare un po' di tempo insieme. E anche la ginnastica dolce avrà, diciamo così, il suo spazio? Non solo, ginnastica dolce, yoga e, ecco, parlavo proprio con la docente del corso di yoga e questo lo dico a tutti. Yoga non è fare strane contorsioni o cose che non sono, diciamo, non sono adatte a persone, insomma, di una certa età. Lo yoga è più che altro un'attività dello spirito, quindi c'è una componente fisica, ma non è certo quella del contorsionista, quindi questo può andare bene per tutti. Ginnastica dolce sì, yoga sì e poi saranno i frequentanti il corso che ci daranno, come dire, le indicazioni migliori per fare qualcosa di meglio l'anno prossimo. Giacomo Vieta, vicepresidente dell'Uni3 Alto Canavese, avrà il compito di far conoscere ai partecipanti quella che è la storia locale. La ricerca e la divulgazione della storia locale è fondamentale perché la gente del posto non dimentichi completamente le proprie origini e quella che è stata la storia. Quali saranno le materie, diciamo, importanti che voi porterete avanti in questi sei mesi? Allora, un ricordo alla storia medievale e alla castellata di Rivara e del Canavese, come ben descritto dal Pola. Poi la storia dello sviluppo industriale a forno a metà ottocento, quando forno è diventata la capitale dello stampaggio a caldo. E poi, eventualmente, la storia recente, senza dimenticare la storia della parlata locale, che è una delle più conservative. Ad Adolfo Fenoglio è toccato il battesimo di questa nuova unitria alto canavese con una lezione sul Dietro le Quinte. Lui che è stato, che è attore, doppiatore famosissimo, nonché anche, però, nel ruolo rivarese di presidente del teatro e, questa volta, anche oratore dell'Ud3. Eh sì, sono contento. Sono molto contento perché il teatro di Rivara è una bella realtà. È un teatro antico che è stato rimesso, grazie alle ultime amministrazioni comunali, è stato rimesso in ordine. Io sono rivarese di adozione perché, quando sono nato, i miei avevano una casa qui e, dopo pochi mesi, sono arrivato. E sulla lezione di oggi? E sulla lezione di oggi, bene, gradevole, perché parlare al pubblico del teatro è una delle cose che mi entusiasmano. E mi sono permesso di finire con questa citazione di Campanile, che è uno dei più grandi scrittori di teatro che ci siano stati in Italia. Già da 13 anni aspettavamo una succursale di un'altra sezione locale. Il 27 agosto c'è stata la fondazione della succursale nuova di Rivara alto canavese, una sede locale della grande famiglia italiana dell'Ud3. oggi è l'inaugurazione. Ci tengo a ricordare che comunque si tratta di un'associazione che ha ottenuto il patrocino non solo da parte del Comune di Rivara, ma anche dai limitrofi comuni di Forno Canavese, Pratiglione, Pertusio e Levone. E penso che sia oltretutto un buon segnale in questo momento così critico per gli antilocali il fatto che si riesca a lavorare finalmente assieme. che il nostro corso di Spera